Il certificato di tiratore scelto dell'ultimo giorno nel 1920, lo sterma araldico dei Carabinieri Reali firmato da Vittorio Emanuele III nel 1935 e ancora la scrivania di una stazione dei primi del Novecento. Sono gli oggetti esposti in piazza Borsa a Treviso per la vetrina dedicata all'arma dei Carabinieri. Un'iniziativa in vista del 4 novembre, 102esimo anniversario della fine della Grande Guerra, ma soprattutto festa dell'Unità d'Italia e delle Forze Armate. Oggetti della quotidianità del tempo, ma anche simboli del valore dell'arma, come le due uniformi esposte. È l'uniforme chiamata Guri, grande uniforme ridotta invernale, che serviva all'epoca per effettuare i controlli sul territorio. Poi invece avete, c'è un'altra uniforme che ha un ricordo particolare. Sì, è l'uniforme, la stessa uniforme che indossava il nostro eroe salvo d'acquisto. Un vero e proprio racconto di quanto l'arma sia nella storia di tutti noi. Uomini, oggi anche donne, che hanno servito e servono in silenzio la patria, controllando il territorio negli eventi scanditi da ogni giorno e poi registrati, come in questo blocco note del tempo. È il quinterno di scritturazione, che non è altro che il quaderno degli appunti di oggi, dove i sotto ufficiali, nei loro corsi, prendevano tutti gli appunti delle normative di legge. E anche chi c'era presente alle varie... Nel caso specifico, questo quinterno di scritturazione riporta di una cerimonia importantissima tutte le autorità che erano presenti, sia autorità militari che civili. Così, in bella scrittura, scopriamo che la massima autorità civile, ma anche militare presente, era Benito Mussolini, in questa vera e propria pagina di storia scritta dal comandante di quella stazione nel 1938. Pagine di ieri per un libro aperto il 13 luglio 1814 con la fondazione dell'arma a Torino e che i carabinieri giorno dopo giorno continuano a scrivere. Una vetrina per ricordare, diciamo, un tempo passato, per certi versi tragico, altrettanto difficile quello di oggi. Sicuramente sì, l'arma, ora come allora, è da sempre vicino al cittadino.